Istria da gustare, un viaggio settimanale e no gastronomico per conoscere ed apprezzare le proposte del territorio istriano. Seguiteci! Non lontano dall'innesto autostradale, nella dorsale del Parentino in direzione di Visnano in Istria, si è insediata la SIZ, la primaria industria italo-croatta, per la lavorazione del pesce fresco e dei crostaci. Ecco dalla viva voce del direttore Gianni Stoinic i segreti del successo della SIZ. Cos'è SIZ? La SIZ è una società italo-crovata, la ditta lavora normale con il pesce, commercio di pesce e lavorazione di pesce. Abbiamo 170 operai, il nostro forte nella ditta sulla lavorazione è l'acciuga salata, il filetto di acciuga marinato, tanto congelamento di sarda e acciuga, facciamo filetti di sarda e tronchetti di sarda e di acciughe e più abbiamo il commercio del pesce fresco e pesce surgelato. Come si articola il lavoro giornaliero? Abbiamo circa 100-110 pescarecci, partendo dalla punta di salvore fino a spalatro, così che lavoriamo 7-8 mila tonolate di pesce all'anno. In maggioranza facciamo esportazione di tutto il nostro pesce che abbiamo, così che l'80% facciamo esportazione e il 20% lo vendiamo qui sul mercato croato. Il trasporto del pesce fresco praticamente lo facciamo da soli, 60-70% di esportazione è Italia, un 10% facciamo da 10-15% Spagna e un 5% Francia. Vi aspettiamo in Istria per scoprire i nostri sapori.